Cimamanda Ngozi Adichie è una scrittrice nigeriana ormai nota a livello internazionale già da tempo note e apprezzata a livello internazionale e in questo romanzo americana ci racconta la storia di un sogno la storia di un sogno ma anche la storia di un risveglio qual è il sogno quale potrebbe essere il sogno di una ragazza nigeriana colta diplomata alla fine degli anni 90 iscriversi in una università americana lasciare un paese come la nigeria caotico insicuro sempre sull'orlo di un colpo di stato e trasferirsi laddove tutti i sogni sono possibili e ifemelu ce la fa ifemelu è la nostra protagonista alla giovane protagonista di americana ce la fa ma dopo un po di tempo decide il risveglio di cui parlavo prima di tornare alla casella di partenza di rientrare in nigeria perché mai va non ve lo posso dire adesso sennò perdete il gusto della lettura ma torniamo alla nostra ifemelu in america apre un blog un blog dal nome evocativo razza buio un blog in cui osserva analizza descrive i rapporti i rapporti di forza anche tra le varie gerarchie razziali come le chiama lei e scopre naturalmente che oltre ai due estremi ben noti i bianchi in testa alla piramide i neri in basso c'è tutto un mondo ascoltate per esempio cosa dice degli ispanici ascoltate ispanico vuol dire chi spesso si trova accanto ai neri americani nelle statistiche di povertà ispanico vuol dire un gradino appena sopra i neri americani nella scala razziale americana ispanico vuol dire la donna peruviana dalla pelle color cioccolata ispanico vuol dire gli indios del messico ispanico vuol dire la gente dall'aspetto biraziale della repubblica dominicana ispanico vuol dire la gente più chiara di porto rico ispanico vuol dire anche il ragazzo biondo e con gli occhi azzurri che viene dall'argentina basta che parli spagnolo e non vieni dalla spagna e voilà sei di razza ispanica ora è necessario che vi dica come poter utilizzare in questo libro in chiave didattica con i vostri alunni il professore d'inglese magari lo recupererà in lingua originale potrà fare così un percorso insomma sulle come dire sui rapporti interraziali negli stati uniti ma tutti gli altri docenti a livello trasversale potranno fare un discorso approfondito sul sui rapporti razziali negli stati uniti quindi cimamanda gozi elic americana ve lo consiglio proprio e mi raccomando non dimenticate di venirci a trovare sul nostro sito internet e sui nostri canali social grazie a tutti grazie a tutti